L'arrivo della bella stagione tra pollini e fioriture provoca tantissimi sintomi fastidiosi a chi è allergico. Naso chiuso, starnuti frequenti, prurito alla bocca, agli occhi e al naso, ma anche difficoltà a respirare e a deglutire. Esistono numerosi rimedi naturali che consentono di contrastare i sintomi dell'allergia, ridurre l'infiammazione e migliorare la funzionalità del sistema immunitario. C'è l'olio di semi di perilla, una pianta simile al basilico aromatica coltivata in Cina, Giappone, Corea e India. Dai suoi semi si ricava un olio particolarmente ricco di acido alfa linoleico e di acidi grassi polinsaturi, in particolare di omega 3. Azione antinfiammatoria, antistaminica, antiallergica e immunomodulante. La perilla riesce a limitare l'infiammazione allergica inibendo alcuni mediatori chimici principali dell'allergia. È in grado di comportarsi come un antistaminico naturale. C'è poi il ribes nigrum. Le foglie e i germogli sono ricche di sostanze antistaminiche e antinfiammatorie che svolgono un'azione antiallergica simile a quella del cortisone. Si stimola la corteccia della ghiandola surrenalica promuovendo maggiore produzione di cortisolo. I flavonoidi inoltre limitano la liberazione delle sostanze responsabili del processo infiammatorio e migliorano il microcircolo e la vascularizzazione dei tessuti. La vitamina C contribuisce a migliorare l'efficienza del sistema immunitario. Dai semi si ottiene un olio ricco di acidi grassi poliinsaturi che modulano i processi infiammatori. Buono anche l'issopo. Questa pianta contiene marrubina, una sostanza dall'azione fluidificante utilissima in caso di rinite allergica. Si usa sotto forma di olio essenziale. Durante il giorno basta versare sei gocce di olio essenziale in un diffusore predisposto per le essenze e respirare. Alla sera prima di dormire si può invece amalgamare sette gocce in due cucchiai di olio di mandorle dolci e massaggiare la miscela sul petto con leggeri movimenti circolatori fino al completo assorbimento dell'olio. Eufrasia e camomilla servono invece per le allergie oculari.